Grazie 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 No, voleva, però fai una foto, se no non si sa chi è che si sta a guidare, vedi? Guarda, è un avvio, è un avvio norma. Guarda, è un avvio, è un avvio, è un avvio. Guarda, è un avvio, è un avvio, è un avvio, è un avvio, è un avvio. Guarda, è un avvio, è un avvio, è un avvio, è un avvio, è un avvio. Guarda, è un avvio, 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 è un avvio. Guarda, è un avvio, è un avvio, è un avvio, è un avvio. Guarda, è un avvio, è un avvio, è un avvio. Guarda, è un avvio, è un avvio, è un avvio. Bertolini prova la pista, prova la serata di gran sposte E' rossa come la torta Buon attimo scelgo. Cosa c'è giacca? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti